Sfera è un compound in PVC d'acciaio inox che ha rivoluzionato il mondo dei profili parabordo tradizionali. Sfera prevede una base parabordo in PVC semirigido, fornite in rotoli a misura esatta dell'imbarcazione per non avere né scarti né interruzioni, che viene montata insieme all'inserto in acciaio in un unico passaggio, prefissandola con del nastro di carta adesiva sull'imbarcazione. Unisce praticità e leggerezza, velocità e facilità di installazione utilizzando la barca stessa come dima per la curvatura del profilo, evitando stock costosi di profili precurbati. Sfera è un prodotto economico ma solido al pari di un profilo in acciaio semitondo. Il profilo in acciaio inox può essere facilmente curvato in fase di installazione direttamente sull'imbarcazione perché segue facilmente tutte le forme sui tre assi e grazie al fissaggio con viti inox e il completamento della posa si effettua velocemente e con estrema semplicità. L'innovativo profilo inox è coestruso in cloruro di vinile rigido antiurto e unisce all'ottimale resistenza agli urti una finitura estetica elegante di prigio. I pratici croprigiunta non solo nascondono efficacemente le fugue di giunzione ma mantengono le barre perfettamente allineate e garantiscono il passo costante delle viti su tutto il giro barca, evitando così gli inestetismi derivanti dalla posa tradizionale senza coprigiunta. La posa è rapida e non necessita di particolari utensili di montaggio. Solo per raggiature acute è consigliato l'impiego di una semplice dima a morsa. I profili inox sono preforati con passo fra le viti costante. Terminali in acciaio inox completano la finitura dello specchio di pop e del giro barca. Sfera è disponibile in varie misure per adattarsi ad ogni esigenza ed imbarcazione. Sfera è un prodotto innovativo, di altissima qualità, a prezzo competitivo e di rapido montaggio per un concreto risparmio di tempo in cantiere. Sfera è un prodotto pad pending, progettato e realizzato in Italia da Tessilmare Como.